Un eventuale cambiamento in questi ultimi giorni probabilmente disorienterebbe anche l'utenza scolastica, i genitori, gli alunni stessi e di disorientamento ce n'è stato molto in questi ultimi tempi. Questo diceva ai nostri microfoni poche ore fa Alessandro Artini, dirigente scolastico dell'ITIS di Arezzo e presidente toscano dell'Associazione Presidi. Sul rientro a scuola in presenza per gli studenti delle scuole superiori arriva però una novità. A deciderla un vertice romano che avrebbe causato non pochi mal di pancia interni alla maggioranza di governo e tra Stato e regioni. Alla fine anche la regione toscana si è allineata e quindi il rientro a scuola in presenza slitta dal 7 all'11 gennaio per le scuole superiori. In molti sono convinti che questa decisione abbia ragioni più politiche che sanitarie. I presidi di tutta Italia, e Arezzo non fa differenza, non hanno ancora nemmeno il documento in mano e quindi prendere una decisione è a dir poco difficile. Il calendario scolastico però prevede per legge 200 giorni di lezione e quindi impossibile perdere il 7, l'8 e il 9 di gennaio. In questi giorni i ragazzi faranno didattica a distanza. Ancora una volta è la scuola e con essa i ragazzi a pagare il prezzo più alto. Anche perché la scuola è diventata un po' come l'ultima pedina da muovere nello scacchiere della politica. E un po' accade che mentre si avverte una difficoltà per quanto riguarda i trasporti, per quanto riguarda il controllo sociale, gli assembramenti eccetera, poi si intervenga sulla scuola perché in fondo è la dimensione ultima su cui è possibile intervenire, ma questo provoca anche disorientamento non solo nel personale scolastico e nei dirigenti scolastici, ma anche nell'utenza. Grazie.